Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 14 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo Ariete. Un sabato superimpegnativo. Sabato superimpegnativo, singolare che le tre grandi religioni rivelate riservino al sacro proprio tre giornate finali della settimana, gli islamici quest'oggi, gli ebrei domani, i cristiani domenica. Bello sarebbe se la giornata fesse uguale per tutti, così come il sacro comunque lo si chiami E1 e il tunnel dell'amicizia di Jakarta, che unisce la grande moschea alla cattedrale cristiana, pare proprio invitare a questa direzione. Rispetto e tolleranza alle uniche bandiere degne di essere sventolate, perché qualunque sia il suo credo l'uomo è uomo, con le radici, i piedi, piantati nella terra e il capo rivolto verso il cielo. Queste le vostre considerazioni, tutte all'insegna della pace, insolite per un'ariete belligerante, ma ora che il vostro astro guida Marte tace, sprofondato nelle acque cancerine e ad argomenti più concreti che rivolgete l'attenzione, il lavoro, consolidato dalla Luna allo Zenit, buona amica del Sole e di Urano, dunque impegno sì ma ben retribuito. Certo che a fine giornata vi sentirete stanchi, la riprova vela da Venere bilancina imbronciata allo specchio, ma se avrete buono a cura del vostro fisico e della vostra mente, il peso di Saturno attaccato ai piedi non riuscirà a farvi cadere, caso mai solo rallentare un po'. Tra voi e i vostri desideri si è creato un muro, sia in amore che in tutti gli altri campi, vi divide da ciò che desiderate un autentico muro di difficoltà e ostacoli. Il muro che si è creato o si sta per creare appare insormontabile e irto di difficoltà. Sentimenti sfaldati, rinunce, vuoti di affetto. Buone notizie in arrivo a partire dal primo pomeriggio. La serata si complica per incomprensioni con il partenre e malintesi con gli amici. Tutto sommato la serata sarà ripagata dalle buone notizie della giornata. Se pensate di aver ricevuto qualche torto in amore, prendete in mano la situazione e chiarite subito, anzi prima. La vostra abituale timidezza potrebbe giocarvi poi qualche brutto scherzo. Energia e forza nel vostro cielo, cercate di cogliere tutte e l'opportunità che oggi vi capiteranno e di usare i buoni risultati che avrete per migliorare la vostra condizione. Oggi rischiate di essere imprecisi e frettolosi, Urano pur se in buon aspetto non riesce a farvi trovare ancora la giusta energia per essere del solito umore e con la solita energia. Lasciate che siano gli altri a farsi carico di alcuni problemi, voi cercate solo di fare la vostra parte e lasciate che siano gli altri a trovare le soluzioni adeguate. Non date sempre la colpa alla crisi, siete pigri e spesso vi inerpicate su sentieri che vi portano lontano. Avete energie a sufficienza per affrontare qualunque situazione, quindi sfruttatele. Per quanto vi possa sembrare complicato sta per aprirsi una nuova strada per risolvere un problema che vi affligge e non da poco. Date fiducia a una persona che oggi si offre di risolverlo. In quello che è accaduto tu non ne hai colpa, solo fai attenzione a non assumerti le responsabilità per difendere qualcuno. Meglio sarà per voi se vi mostrerete coraggiosi e poco disponibili ad accettare tutto dai vostri amici e dal vostro partner. I single farebbero meglio a scegliere bene tra le loro amicizie. Astri decisamente in buona posizione vi allietano in questo giorno settembrino. Urano dal buon vicino toro, vi sostiene costantemente da un punto di vista della prontezza di riflessi mentali e da capacità organizzative di primordine, se nati nella terza decade. Pronti e direttivi, riuscite a gestire, con il vostro piglio, ogni incombenza quotidiana. In famiglia siete sensibili, attenti per un problema di un componente dell'habitat. L'intervento di un fratello o una sorella sarà poi provvidenziale nel riportare in casa l'armonia. Non vedete l'ora nel weekend di recuperare le energie con il relax di ottime letture o con rivitalizzanti nuotate. Per il vostro segno la luna in capricorno in quadratura sia al vostro segno e alla vostra dirimpettaia venere, è il classico motore di un sabato 14, in cui vanno tutte storte. Una faccenda di cuore vi distrae al punto da farvi perdere la bussola sul lavoro, con conseguenti rampogne da parte del capo, che vi guarda allibito, chiedendovi se per caso non siate impazziti. Per vostra fortuna la bianca signora intrattiene buoni rapporti con il sole e con mercurio nel settore numero 6 del vostro oroscopo, che fa rientrare rapidamente il problema risolvendolo con la sua inimitabile astuzia. Amore ed eros. Il partner vi sta attaccato come una cozza, mentre la suocera vedendolo così innamorato comincia a nutrire per voi una profonda antipatia. Sesso e sentimento si tengono teneramente per mano, promettendosi l'ennesima notte di fuoco. L'eros va a gonfie vele e aiuta considerevolmente la ripresa a tutto tondo. Giove è promotore del vostro successo amoroso e delle conquiste che state realizzando, se siete della seconda decade. Recuperate sintonia a tutti i livelli con la persona amata con cui di recente avevate percepito un'aria di stanchezza. Lavoro e denaro. Quanto vi affatica la supervisione del capo malcontento, ancora di più la competitività dei colleghi che non perdono occasione per farsi le scarpe l'uno con l'altro. Non che il vostro segno non sia battagliero, ma il vostro lavoro lo prendete sul serio, vi piace e lo svolgete con profondo senso del dovere, ragione per cui non avvertite stanchezza. Forse un pochino, ma una volta corroborati da una doccia e una cenetta tornate come nuovi, pronti per la vostra serata vitae o la. Marte dal segno del cancro e luna, Plutone dal capricorno, dissonanti vi possono rendere poco flessibili con qualche collega, specie se siete nati nella seconda e terza decade arietina. Cercate di non urtare la sensibilità di chi vi è vicino e preferite tacere anziché esprimere le vostre opinioni come vorreste. Benessere. Indolenzimenti alle gambe, specie se il lavoro vi costringe in piedi tutto il giorno, ma un'alimentazione accurata e dosata e giusto vi aiuta a mantenervi sani, belli ed efficienti giorno e notte. Discreta comunque la forma fisica, non sarete da passerella, ma l'essenziale è sentirsi bene. Per lei, finalmente anche stavolta finisce la settimana e inizia il relax. Primo passo una cenetta recapitata direttamente a casa da godersi in ciabatte davanti la tv, troppo stanchi per la socievolezza. Per lui, golosi di tutto, la gamma dei piaceri che inizia dalla bocca ma pervade tutto il corpo attraverso la pelle, tavola e letto in perfetta connessione, nel mezzo il frigo con i suoi spuntini malandrini. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.